Io mi chiamo Anna Raimondi e sono il presidente dell'associazione SMAM che è nata nel 1999 da un gruppo che si trovava al consultorio di Via Poma e in cui era nata la necessità di fare altre cose, tra cui soprattutto c'era il bisogno di trovare un posto per socializzare. Siamo appunto un gruppo di mamme che ha fatto una richiesta alla circoscrizione e la circoscrizione è piaciuto molto il progetto e ci ha dato uno spazio che era il centro famiglia di Via Balla e all'interno di questo centro noi abbiamo gli abbiamo dato la vita, nel senso che l'abbiamo proprio noi con le nostre mani l'abbiamo pitturato, gli abbiamo messo dei mobili e abbiamo creato uno spazio dove le mamme e i bambini potessero fare delle attività insieme perché per noi era importante che c'era un luogo dove le mamme e i bambini si potessero incontrare. Poi abbiamo avuto anche la necessità di coinvolgere tutta la famiglia e quindi oltre a incontrarsi con mamme e i bambini ci si incontrava tra famiglie e si facevano delle attività. E' nato poi un punto gioco proprio finanziato anche dal comune di Torino e però alcuni anni fa ci sono stati dei bandi e noi abbiamo perso questi bandi e abbiamo perso anche questo luogo. Dopo la perdita di questo bando per noi era importante avere uno spazio per questi bambini piccoli e nel frattempo è nato il progetto di Cascina Roccafranca e noi sin dall'inizio siamo stati dentro e abbiamo portato la nostra esperienza e abbiamo dato anche delle idee su delle cose da fare. Avevamo appunto pensato al baby parking, al punto gioco e in più abbiamo pensato perché non strutturare un mercatino dove le mamme potevano portare i giochi, le cose che non si usavano più soprattutto gli oggetti che spesso sono nuovi e non vengono usati veramente poco. E allora abbiamo un po' sviluppato questa idea che è piaciuta anche qui in Cascina e ci ha dato l'opportunità di creare questa bottega dove appunto noi teniamo in conto vendita gli oggetti e con questo finanziamo il nostro progetto. Io sono Giuliana Foco e lavoro all'interno della bottega delle mamme. La bottega è un mercatino dell'usato in conto vendita dove lavoriamo per promuovere un consumo più consapevole in modo che le famiglie abbiano la possibilità di acquistare senza creare ulteriore immondizia, scarti vendiamo delle cose che sono riutilizzabili e quindi le famiglie possono venire qui su appuntamento portarci le loro cose, vengono guardate, selezionate per cui garantiamo un usato sicuro e rivendute in modo da poter ricavarne ancora una parte di denaro e dare la possibilità ad altre famiglie di acquistare risparmiando e in questo modo collaborare per un ambiente più pulito. Io offro alla bottega delle ore di volontariato e mi trovano qua al mattino il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Al pomeriggio trovano un altro collego, altri volontari che ruotano su questo servizio. Quindi il mattino è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì e il pomeriggio, il martedì e il giovedì. Siamo aperti alcuni sabati al mese ma conviene sempre telefonare per essere sicuri perché se siamo impegnati in attività diverse o feste siamo chiusi. Questo spazio nasce proprio anche da delle nostre esigenze perché io avendo tre figli mi rendo subito conto che abbiamo le case piene di vestiti, di scarpe, di giochi e spesso le cose dei bambini sono veramente nuove. Io ho avuto la possibilità di poterle riciclare con gli altri figli però chi magari non ha questa possibilità può appunto venire in questo spazio e insomma mettere appunto gli oggetti in conto vendita e recuperare qualche soldino per poi comprare altre cose. Intanto appunto si disfa di queste cose che spesso sono nuove e quindi questo dà anche una mano all'ambiente sicuramente ci aiuta a stare meglio tutti insomma. Ho due bimbi, un maschio e una femmina di 10 e 6 anni e quindi anch'io sono qui in veste di mamma per cui con la stessa esperienza che vivo a casa riporto in bottega quello che è la quotidianità di una mamma l'utilizzo di cose nuove che possono essere riutilizzate per altri bimbi giocattoli, promuoviamo anche per esempio sotto le festività delle sorte di pacchetti regalo ci sono delle liste, le mamme possono venire qui e scegliere loro stesse vedendo l'oggetto che interessa il capo che vada bene ai propri figli creare una lista di regali e mandare qua parenti, amici che vogliono appunto fare un dono a questi bimbi in questo modo autorizzano queste persone a fare degli acquisti di articoli usati che spesso è una frase che rimane un po' così poco digerita perché ma è un oggetto usato l'ha già messo un altro bimbo la carrozzina non è nuova e invece non ci si rende conto che è un ottimo metodo di acquisto questo progetto sicuramente oltre a favorire le famiglie sotto l'aspetto economico può essere un progetto educativo rivolto ai bambini in modo che imparino a utilizzare le cose nel modo giusto senza distruggerle e senza rovinarle e nello stesso tempo dare un valore economico alle cose nel senso che un oggetto che ha avuto un costo non rovinato possono capire che può essere riutilizzato e quindi capire che nel mondo forse c'è un modo per poter creare meno immondizia e quindi sicuramente può essere un progetto educativo rivolto all'intera famiglia dai grandi ai piccoli la mia famiglia è completamente coinvolta in queste cose mi seguono diciamo ho un figlio più grande che ormai non mi segue più però diciamo i miei due più piccoli mi seguono e loro secondo me stanno apprendendo molto da questa cosa ed io credo che sia per loro un grande esempio di come certe volte bisogna sapere anche donare e fare delle cose per gli altri senza dover avere sempre delle cose diciamo in cambio perché in fin dei conti noi mettiamo molto tempo nostro per fare insomma certe attività e non sempre abbiamo diciamo delle cose in cambio e questo credo che sia una cosa educativa una cosa molto educativa per i nostri figli e i miei figli penso che siano contenti insomma che io mi occupo di queste cose insomma noi fino a questo momento abbiamo cercato di auto mantenerci in modo autonomo però in questo momento siamo un po' in difficoltà perché non riusciamo non abbiamo più altri progetti che insomma ci possano dare una mano a sostenere il progetto della bottega e nonostante ci siano molte ore di volontariato abbiamo necessità comunque di avere dei contributi per delle spese che insomma dobbiamo sostenere e quindi il nostro appello sarebbe è quello di capire se si possono trovare dei contributi ma più che trovare dei contributi noi avremo proprio bisogno di trovare uno spazio più grande più visibile perché avendo uno spazio più grande più visibile probabilmente riusciremo ad avere più entrate e quindi automantenerci insomma alla bottega delle mamme trovate articoli praticamente dal pre-mamman fino ai 12-13 anni c'è di tutto, c'è l'abbigliamento ci sono i giochi, le scarpe passeggini, carrozzine è un mondo, è un luogo pieno di ogni articolo bisogna solo passare spesso perché le occasioni possono variare da un giorno all'altro